Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori, tra aglio e ronco bilaggio fino al 28 febbraio. In A11 per lavori stanotte, dalle 22 alle 6, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Firenze-Ovest in direzione Pisa. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata tra i chilometri 278 e 900 e 279 e 500 circa nel comune di San Casciano in Val di Pesa fino al 20 febbraio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!